Ciao a tutti unicornini e unicornine e benvenuti o bentornati in questo nuovo video Allora, oggi come avete letto il titolo vi andrò a suonare dalla mia pianola Ovviamente molto suonata, io, non lei Comunque vi andrò a suonare delle piccole strofe, o meglio dei piccoli dighi, tipo minimo due i Delle canzoni che io conosco, che per me sono le più famose, però comunque sono molto famose Tipo come Il Pirata dei Carabili, Aristocati, Happy Birthday Io direi di cominciare da il più semplice, cioè Happy Birthday Non ci fate caso se sbaglio, perché... Ecco la stenta che si vuole Comunque la stenta Comunque l'avete sentito, raga non ci fate caso, perché non sono brave queste cose Questo qua l'avevo scritto io E poi... Un sacco di cose qua Ok, l'inno alla gioia Adesso molto meglio Allora Un attimo Perfetto Allora Ok, questo qua è un piccolo pezzo Adesso veniremo a sentire un altro, sempre dell'inno alla gioia Completo A vero, comunque l'avete sentito che è bellissimo Farò... non so quante volte in questo video sentirete Vabbè, comunque l'avete sentito Perché... non sono brava Cioè non sono tanto brava, però... Allora, poi ho visto Gatti che sta a memoria Questo testo qui E penso... sì, ve lo farò tutto quanto Perfetto, questo qua è dei aristocrati scale a reggi Adesso per ultimo E per importanza Il pirata dei carai Che non sto a memoria Quindi farò schifo Però voi non ci pensate E non ci pensate Perfetto Ed è pronto a fine qua Comunque Se volete altri video di questo genere Perché ho molti altri testi Scrivetemelo qui sotto nei commenti Ma soprattutto scrivetemi Delle nuove challenge Perché come vedete Non li sto facendo da un sacco di tempo Perché non ho idee E lo dico sempre di scrivermi qualcosa Nei commenti, qualche idea Comunque mando un bacione a tutti Se volete essere salutati Scrivetemi sempre qui sotto nei commenti Mando un bacione Un abbracione e al prossimo video Ciao